E' un'affreddura da cavallo. Che fai? Mi so fare a corde del muscolo perché in America lo pagano benissimo per fare i bignetti, amico? Che schifo. Senti un po', perché conosci un certo minore? E' parecchie settimane che non se vede. Vuoi fare un balletto con me? Io sono lady. E io sono cartagno, non ho ballato.